E' perchè Aram è vietato, di poi la poluzione durante i mesi di Aram no, quella non fa niente, ah vai vai vai, e quindi è così, nel senso che sono delle cose molto strumentali, che non hanno niente a che fare con la religione, sono delle cose che si usano così, però nei fatti, tolto il codice della famiglia, le leggi Angelina e Sala dovrebbero essere laiche, dovrebbero, poi l'applicazione, le contraddizioni ci sono da ovunque, negli Stati Uniti c'è negli Stati Uniti che è un paese laico, però vai in tribunale e giuri sulla Bibbia o giuri su qualche libro religioso, oppure sul dollaro c'è scritto In God We Trust, oppure ci sono tanti riferimenti alla Bibbia nelle leggi americane, in Italia c'è l'accordo di tra lo Stato e il Vaticano, insomma, le contraddizioni ci sono dappertutto, non so se esiste uno Stato completamente laico, però finché se viene rispettata la libertà di chi ha un'altra religione o non ha religione proprio, diciamo che questo è il criterio che basterebbe, la legge Angelina dovrebbe tendere verso questo, le persone, i giudici, i poliziotti no, diciamo fanno sì che, e ovviamente la società stessa, perché il Ramadan se non ti beccano i poliziotti neanche se ti becca la popolazione ti riprendi di brutto, quindi non è che... Io volevo dire una cosa velocissima, che non è in realtà una domanda, ma è così un'osservazione, che io ho seguito gli eventi algerini, ho visto sulle persone, sugli algerini, il effetto che ha fatto e che fa questa mobilitazione e io penso che noi italiani abbiamo moltissimo da imparare quello che sta succedendo in Algeria. Per tre motivi, tre cose che io ho visto che mi hanno colpito moltissimo, la prima è l'idea di essere in un solco di storia di cui andare fieri, no? Quindi l'Iraq di oggi è un erede del movimento di liberazione, è un erede del movimento dell'88 e via dicendo, è una cosa che rende la popolazione veramente fiera. La seconda cosa è questa grandissima maturità di cui lei ha parlato, cioè l'idea di non provocare la pulizia, cioè l'idea di proteggersi, di proteggere tutti i partecipanti alla mobilitazione. e la terza cosa è la gentilezza e la gioia, che sono meravigliose, che si percepiscono nelle persone che partecipano, non lo so, ad esempio ad Algeri durante le manifestazioni ci sono le persone che portano l'acqua e la regalano a tutti, ci sono le persone che portano da mangiare, la regalano a tutti, c'è una forma di solidarietà ed è veramente anche una festa e secondo me questa è una cosa di cui noi italiani dobbiamo imparare tantissimo. Ma devo dire che i popoli che lottano sono sempre molto belli, anche fisicamente diventano belli, non lo so perché nelle foto dei rivoluzionari c'erano una certa... Questo mi riporta alla domanda che mi hai fatto all'inizio, se è difficile parlare del proprio paese. In realtà io a un certo momento parlavo sempre della storia, delle cose vecchie perché mi stavo lontanando completamente dall'Algeria. Io ci andavo all'estate perché c'è ancora mia madre e quindi la devo andare a trovare, però stavo male in questo paese, stavo veramente male e lo guardavo da lontano che andava verso la rovina totale senza reagire. Questo mi faceva veramente male. Quindi mi interessavo sempre meno all'attualità algerica, fino a questo Herak. Questo Herak ci ha riportato ad amare il nostro paese, ci ha riportato ad interessarsi al nostro paese. Tutta la diaspora è mobilitata dappertutto, gente che magari non ci andava da anni e anni. Gente che si sposta da Parigi per manifestare il venerdì, io ne conosco almeno, cioè non tutti i venerdì, ma ogni tanto, gente quando ci sono mobilitazioni particolari, tipo per il primo novembre c'è stata una grande mobilitazione per il 5 luglio, sempre le date storiche, si ritorna sempre a quest'ossessione della storia. C'è gente che è andata dalla Francia, da Parigi, per essere presenti. Qui ci ha riportato veramente a rivedere il nostro paese in un altro modo, con questa bellezza che sta proponendo questo Herak. La bellezza, il sorriso, noi eravamo un popolo che non sorrideva più, e ha perso il sorriso da molti anni, nella guerra degli anni 90, noi avevamo perso il sorriso. Mi ricordo che avevo incontrato una turista giapponese nel sud dell'Algeria, mi ha detto questo, ma perché è arrivata al sud, comunque la gente del sud è diversa, è un po' più aperta, più tranquilla, perché la vita sempre è stata più tranquilla lì, ma anche perché loro non hanno vissuto i massacri, eccetera, quindi sono più rilassati. Sono incontrati nella città di Tamanrasset, e dice, finalmente qua vedo gente che sa sorridere, ma nel nord dell'Algeria, ho incontrato un popolo che mi sembrava un popolo che non sa sorridere, se vi sto parlando, era l'inizio degli anni 2000, perché c'erano ancora, insomma, problemi di sicurezza, eccetera. Questa rivolta ha riportato la speranza e il sorriso, invece la generosità c'è sempre stata. Questa è l'unica cosa che io quando, cioè una volta ad Algeria mi è successa questo, era un momento in cui detestavo questo popolo, perché si stava, da un momento in cui Bouteflika era molto popolare, perché distribuiva i soldi, il petrolio era le stelle, gli distribuiva case, soldi, i giovani facevano dei progetti fasulli, io voglio comprare un camion per fare che cosa, non importa, tieni, davano dei soldi, ma dei soldi, grandi soldi, insomma, e c'erano le stelle, era la popolazione, io qua perché io dico le stesse cose da sempre, quante volte mi hanno insultato la comunità algerina qua in Italia? E quindi era un momento in cui ero molto arrabbiato con questo popolo, era ad Algeria con un'amica, stavamo facendo un documentario negli anni 2000 sulla rivolta in Cabilia, eccetera, c'è questa amica che ci porta in macchina ad Algeria, e a un certo momento spacca una ruota contro il bordo di marciapiede, così, in un quartiere alto, diciamo, dei quartieri alti di Algeria, ma popolare, non quelli dei ricchi. Subito ci circonda una folla di persone, ci fanno sedere, ci portano dei tè, smontano la ruota, mandano uno col motorino del gommista che ripara la ruota, la riportano, la rimontano, e ci salutano, senza chiedere niente, senza chiedere niente. E io dico, questo popolo a volte lo odi, dici che è il più brutto del mondo, ma a volte è il più bello del mondo, c'è degli eccessi di generosità che secondo me non esistono da nessuna parte. Quindi la generosità c'è sempre stata, c'è sempre stata. Le altre cose vanno e vengono, come da te. Quindi sai cosa, stavo pensando che alla fine questo capitano a Algeria, questo capitano, è capitato in altri paesi, il senso di riacquistire la dignità, c'è carano, no? Sì. E qui la nucia repressione che potrà riportare come la prima, perché una volta che è stato comunque interiorizzato nuovamente questo senso della possibilità e che il tuo agire può produrre qualcosa, beh, questo, per qualsiasi tipo di dispositivo di repressione, di controllo, penso che sia difficile per cui non è stata contastata. Cioè, c'è un senso. Certo, non è. E lì mi scoperta la roba. C'è una riacquisizione della propria dignità nel lottare, perché anche se, diciamo che economicamente, prima di questi ultimi anni, la situazione di Lora non era così malvagia, insomma. Però era un modo di buttare, come si buttavano i soldi, come si butta il cibo agli animali, così, mangiati, e stati zitti. Quindi non era veramente una situazione bella. E la gente comunque dentro lo sentiva. Molti stavano zitti perché si sentivano in minoranza o pensavano di essere soli. Però questo ha liberato questa questa dignità che sta nelle persone. Questo è il risultato più bello di questo movimento. Veramente un risultato molto bello. Peccato che noi parliamo una lingua che si capisce solo tra Marocco, Tunisia e Algeria. Però ci sono dei dibattiti anche nelle strade sulle scale dell'opera di Algeria oppure all'università nel cortile dei giardini pubblici. Ci sono dei dibattiti tra gente così di passaggio perché sono di un livello, di una bellezza, di una tranquillità ma qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario. E io mi dico ma dove era nascosta tutta questa coscienza politica? Dove era nascosta quando la gente stava zitta andava a votare per Bouteflika perché Bouteflika ci ha dato le case? Pensavamo che fosse quella la dire e invece no. Quella era la parte visibile perché chi non ha chi sta con il regime si espone. Chi sta con il regime si espone non ha paura chi non sta con il regime sta zitto sta zitto e pensa di essere solo noi pensavamo ognuno di essere da soli isolati invece eravamo tantissimi siamo la maggioranza oggi stanno uscendo milioni è una cosa che poi i media non la raccontano ma è una cosa inimmaginabile 48 province tutte escono ogni venerdì ma ci sono manifestazioni anche nei piccoli villaggi ci sono immagini di sole donne in alcuni villaggi della Capiglia sole donne con il vestito tradizionale che escono e cantano e manifestano e uno dice ma chi li vede queste qua no escono comunque perché portano il loro contributo queste elezioni che si stanno che si stanno organizzando adesso ci sono più di centinaia di sindaci che hanno dichiarato che non organizzeranno le elezioni nei loro comuni ci sono paesi villaggi dove i candidati sono andati a fare campagne elettorali e sono stati lanciati via o le comunque disturbate non li hanno lasciati a fare ma ci sono luoghi che praticamente sono andati e hanno chiuso l'ufficio elettorale del comune c'è un villaggio in un paese in Capiglia dove mi hanno costruito un muro l'ufficio che gestisce che cosa come si chiama i registri elettorali sono andati i cittadini e l'hanno murato finché non si fa la costituenza e qua non si vuota grazie mille per la costruzione per la costruzione